Caro Presidente, la novità sai qual è? I politici di oggi, di quella portata, sai cosa fanno per nascondere le proprie incapacità politiche alla faccia di chi soffre veramente la fame? Fa lo sciopero della fame! Fa lo sciopero della fame! Ma si vergognasse! Ma perché non si vergogna e non pensa a chi materialmente, grazie alla loro incapacità politica, hanno ridotto gente all'astrico, sull'astrico perché non è possibile, non è realmente possibile e noi abbiamo i nostri politici, sai, solo perché si fanno le scaramucce tra il Presidente Crocetta e il nostro sindaco, si fanno le scaramucce e quindi non arrivano i fondi nel nostro paese. Questa è la politica di alto livello a cui purtroppo generalmente assistiamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!